chi segue questo canale sa che molti contenuti e spunti di ricerca sono attinti dal mondo teosofico, particolarmente dalle opere di Elena Blavatsky. In precedenti video mi è capitato di toccare l'argomento della cosiddetta fratellanza bianca, della quale alcuni suoi membri, noti come i tibetani, sono stati gli ispiratori del movimento teosofico ed i maestri che impartirono i loro insegnamenti esoterici alla stessa Blavatsky. Sappiamo che storicamente ciò avvenne come tentativo di unire la tradizione occidentale e quella orientale e dunque in senso più ampio per unire ed armonizzare le conoscenze e i caratteri acquisiti dall'umanità. Di tale azione che prese avvio per mezzo di piccole organizzazioni filantropiche sorte inizialmente in India, Inghilterra, America e in seguito in tutta Europa, possiamo oggi misurarne la forza studiando gli eventi che sconvolsero il mondo con le due guerre mondiali, le rivoluzioni sociali, tecnologiche e culturali che approdarono nella cosiddetta New Age fino al modello di un nuovo ordine mondiale che attualmente è in atto. Detta in questo modo per molte persone il giudizio per le conseguenze prodotte non potrà essere molto positivo. Le riflessioni contenute in questo video sono il tentativo di rendere noti i caratteri particolari degli insegnamenti che mossero tali cambiamenti per l'umanità e che, a mio avviso, nonostante la divulgazione pubblica a circoli ormai da 150 anni, non sono ancora stati metabolizzati da alcun modello culturale. Tuttavia, tali considerazioni forse saranno di aiuto per collegare i punti del nostro presente e comprendere il declino dei vecchi modelli religiosi e culturali in atto. Esse sono maturate dalla lettura di alcuni libri, dei quali trovate il download gratuito in descrizione al video. Si tratta per lo più del primo volume delle lettere dei Mahatma pubblicato dal teosofo Alfred Sinnet nel 1923 e del libro del 1957 redato da Alice Bailey sugli insegnamenti impartiti da Giaval Kull intitolato L'esteriorizzazione della gerarchia. Dato che difficilmente in questa occasione riuscirò ad esaurire la questione, anche i prossimi video saranno dedicati alla condivisione del materiale studiato. La principale riflessione riguarda i concetti di bene e di male e delle supposte leve di comando che appartengono rispettivamente alle organizzazioni occulte scese in campo. Ad oggi l'uomo medio occidentale non ha ancora digerito i frutti della filosofia maturati tra il XIX e XX secolo e non è ancora dunque nato l'Ubermensch iniziano capace di porsi al di là del bene e di svelare i legami di tali forze nel modello antropologico. Come a dire che nella nostra cultura permane una visione religiosa, dogmatica, che considera tali forze assolute, immutabili e avversarie. Tale visione che è di forte ostacolo alla percezione della realtà dei fatti, pervade anche gli ambienti della ricerca indipendente, etichettati come ambienti complottisti, nei quali viene presentato uno scenario esclusivo apocalittico di guerra tra bene e male. Ecco che a tale proposito risulta utile esaminare il fenomeno della fratellanza bianca e della fratellanza nera, senza qui precisare la loro identificazione. Dalle lettere dei maestri tibetani sappiamo che i membri bianchi di questa rete occulta definiscono i propri antagonisti col termine di fratelli dell'ombra e ciò dovrebbe di per sé bastare per farci capire che le due compagini, benché siano divise, si considerano fraterne. Ciò presuppone che dal punto di vista qualitativo della conoscenza e del percorso iniziatico i membri di entrambi gli schieramenti hanno superato le medesime difficoltà e dimostrato le stesse doti, ed il prevalere degli elementi materiale o spirituale della loro natura ha condizionato la scelta del gruppo bianco rispetto a quello nero. Questo significa anche che entrambi i gruppi sanno di agire per un fine comune, servendosi delle forze del bene oppure di quelle del male. Quale fine comune? Per allargare la nostra prospettiva sul fine comune che queste fratellanze intendono perseguire è necessario indagare il nostro passato nelle principali tappe evolutive dell'umanità insegnate nell'esoterismo piuttosto che dalla nostra moderna scienza. Per il momento possiamo accontentarsi di sapere quanto è riportato dai maestri tibetani nei libri citati, e cioè che l'origine di questa separazione è vecchia di un milione di anni e scaturisce nelle vicende della civiltà atlantidea con il culmine della quarta razza umana, quando il viaggio evolutivo trascinò l'umanità al centro della croce, cioè nel mezzo delle forze impresse in modo orizzontale dalla materia e in modo verticale dallo spirito. Quello fu il tempo in cui l'umanità si separò generando i vertici delle organizzazioni che chiamiamo fratellanze e che tuttora si fronteggiano. Nei libri che vi invito a consultare è scritto che i due conflitti mondiali furono il momento cruciale dello scontro di queste forze e gli avvenimenti che stiamo attualmente vivendo, nei quali la separazione o la coesione dell'umanità è posta fortemente in gioco, vanno intesi come una necessaria prova da superare, stabilita da forze superiori, cosmico-planetarie, volte alla generazione di una nuova era. In un passo del libro del 1957 è scritto a questo proposito che sarà necessario progettare un evento drammatico e universale che servirà da ispirazione e inaugurazione della nuova era di buona volontà e di giuste relazioni umane. Si circostanzia anche il periodo quando lo stesso maestro tibetano afferma che nell'anno 2025 si terrà il prossimo convegno secolare della gerarchia. A queste considerazioni che chiariscono le dinamiche esistenti tra il bene ed il male rispetto alle fratellanze, possiamo aggiungere che dal punto di vista esoterico, stando agli insegnamenti dei maestri tibetani, il male ha una polarità negativa in quanto è inteso come assenza del bene. Esso si manifesta dunque come degenerazione che appartiene unicamente all'essere umano e non è presente nella restante natura delle cose. L'origine di ogni piccolo grande male è nell'azione umana, nell'uomo, che per la sua intelligenza è l'unico agente libero nella natura. Il male è il risultato dell'egoismo, nella rinuncia a percepire la propria individualità come qualcosa di inseparabile dalla coscienza collettiva umana. Possiamo precisare che seppure non manchino gli apporti della fratellanza nelle vicende umane, soprattutto rispetto al passato, oggi la gerarchia appare ritirata e nella posizione di osservare e studiare gli eventi mondiali. Il motivo è soprattutto dovuto al fatto che l'attuale razza umana possiede delle capacità di arbitrio e dunque pure di responsabilità che i nostri antenati atlantidei non avevano sviluppato. Dai resoconti esoterici sappiamo infatti che ai tempi dell'Atlantide il libro arbitrio non esisteva. Ai tempi dell'Atlantide le linee di demarcazione tra ciò che costituiva la vita puramente fisica e ciò che, sebbene ancora materiale, poteva rappresentare lo scopo dello sforzo acquisito, cominciò a dominare la natura puramente animale. L'uomo cominciò ad essere avido e a circondarsi di ciò che desiderava. Le linee di separazione tra l'animale istintivo e l'uomo avido cominciarono a essere più definite chiaramente. Gli uomini cominciarono ad acquisire una certa forma di percezione mentale e da utilizzare quel poco di mente che possedevano per accrescere i loro valori materiali. Nella guerra tra giganti di Atlantide, narrata dalle cronache e che portò al sorgere della fratellanza bianca e di quella nera, è detto che la vittoria fu infine della parte spirituale, che un immenso cataclisma portò al repentino sprofondamento della civiltà malvagia e che un gruppo di eletti considerati puri furono salvati dal disastro per diventare il seme della futura ed attuale quinta razza. Il cataclisma che si abbatté su Atlantide non ebbe cause naturali, ma fu provocato dall'intervento esterno di esseri superiori, invocati dai fratelli bianchi, esseri che con ogni probabilità oggi chiameremo alieni, ma che nelle prossime condivisioni sul canale del tetano della quinta razza magari troveremo il modo di conoscere diversamente. Per comprendere il grado di deformazione della storia, del nostro passato, che rende impossibile una ricostruzione dei fatti anche fuori dai territori dell'informazione ufficiale, manipolata allo scopo, vale la pena aggiungere altri dettagli su Atlantide, riportando testualmente un estratto dal libro Esteriorizzazione della Gerarchia. In quell'epoca ben lontana, le sole persone che avessero un certo grado di intelligenza erano i discepoli e gli iniziati. Essi guidavano e proteggevano l'umanità bambina, un po' come i genitori moderni, guidano e proteggono i figli e come lo Stato si assume la responsabilità del benessere della nazione. A quei tempi la Gerarchia era presente sulla terra con i re sacerdoti che agivano da punti focali ed energia attrattiva, attirando a sé coloro nei quali i valori più intangibili stavano assumendo un vago dominio, rendendo così ancora più definite e chiare le linee di separazione tra materialismo e spiritualità. Dobbiamo ricordare che la spiritualità di quei tempi era di una qualità ben diversa da quella che ora porta lo stesso nome. Aveva il carattere di un'aspirazione verso un al di là vagamente percepito, ad una bellezza che soddisfaceva e era completamente emotivo. In questo atteggiamento il pensiero come lo conosciamo noi non era presente, ma aveva soltanto una tendenza a raggiungere qualcosa percepita come irraggiungibile e ciò che era desiderabile. Questo veniva favorito dalla Gerarchia che faceva dono di varie invenzioni e usava le masse istintive per costruire grandi città e strutture stupende, i cui resti sussistono ancora oggi. Tutto questo era compiuto sotto la guida di iniziati e adepti che usavano la loro conoscenza della natura, della materia, dell'energia per creare molte cose che oggi l'uomo tenta brancolando di scoprire e di rendere possibili. Tutto ciò che i moderni processi della civiltà hanno reso possibile e molte altre cose superiori alle nostre più recenti scoperte scientifiche erano noti nell'antica Atlantide, ma non furono sviluppati dagli uomini stessi, bensì furono offerte loro come dono spontaneo, proprio come oggi si danno ai bambini oggetti meravigliosi che essi usano e godono ma non possono capire. Dappertutto si trovavano grandi e belle città piene di tempi e di grandi costruzioni. La maggior parte della conoscenza scientifica moderna era posseduta dai resi sacerdoti e agli occhi delle masse appariva come una meravigliosa forma di magia. C'era il dominio dell'aria e delle acque perché le guide della razza sapevano come controllare e dominare le forze della natura e gli elementi, ma nulla di tutto ciò era opera dell'intelletto, della conoscenza o dello sforzo umano. Le menti degli uomini non erano sviluppate né più adeguate ad un tale compito in quanto lo sia la mente di un bimbo. La scissione fra i due gruppi, esprimenti l'uno le forze del materialismo e l'altro l'energia della luce, si ingrandì progressivamente, finché verso il termine dell'epoca atlantidea fu così ampia e le linee di demarcazione tra le due scuole di vita e di pensiero furono così chiare che nel mondo civilizzato di allora ne conseguì la precipitazione di un conflitto. Ecco che al ricercatore capace la lettura di queste poche righe offre la risposta ai molti enigmi del nostro passato e alle infinite domande che scaturiscono contemplando le rovine colossali delle civiltà perdute. I complessi megalitici sparsi nel mondo, fabbricati ad uso della razza gigante che si sviluppò nel continente di Atlantide, furono creati con tecnologie che gli stessi abitanti ignoravano e della cui meraviglia sono imbevute le migliaia di raffigurazioni e statue giunte fino a noi. Questa razza fu dunque a tutti gli effetti allevata dai membri di una sviluppatissima gerarchia e per comprendere meglio questi fatti chi vorrà potrà condurre delle ricerche per proprio conto o attendere il prossimo video che approfondirà l'argomento dell'evoluzione umana attraverso le sette razze radice e lungo la catena planetaria. In questa occasione però intendo soffermarmi sul gioco di forze tra bene e male in relazione alle fratellanze e alla volontà umana. Anche se abbiamo appurato che nella storia di un milione di anni fa di fu una forte ingerenza esterna nello sviluppo dell'umanità abbiamo anche detto che attualmente all'uomo è riconosciuto il valore della libertà individuale e dunque della responsabilità. Questo aspetto è diventato il discrimine nelle due fratellanze dato che la parte bianca adotta delle leggi sagge e inviolabili che proibiscono di assoggettare completamente un'altra volontà più debole, quella dell'uomo libero, mentre questo modo ad agire è il preferito dei fratelli dell'ombra, degli stregoni e degli spiriti elementari. Di questo fatto possiamo otrarne utili indicazioni per provare a capire rispetto alle scelte che hanno implicazioni morali, sanitari e sociali di questa intricata situazione di emergenza che oggi ci troviamo a vivere, da quale direzione esse provengano e quali effetti essi produrranno nel nostro futuro. I livelli di pervasività, manipolazione e condizionamento che imbevono un dato scenario ci aiuteranno a svelare l'identità degli autori dietro le quinte molto più dell'analisi degli effetti prodotti a breve termine in superficie. Poiché sia ben chiaro che agli occhi della fratellanza il confine tra bene e male è sottilissimo e sono entrambi strumenti evolutivi per l'uomo, vale la pena spendere due parole sul capitolo delle guerre mondiali, così come riferite dal maestro Di Valcul, il quale scrisse «Non avrebbe senso per me collegare il presente conflitto mondiale e gli attuali capi del mondo con il conflitto e i capi dei tempi dell'Atlantide, se non per dire che molte delle medesime personalità su una voluta più alta della spirale, recitano di nuovo la loro parte nel grande dramma. Un pugno di uomini, discendenti diretti o piuttosto reincarnazioni dei capi dell'antico conflitto Atlantideo è ora sulla terra e dirige le forze della luce o della tenebra e crea uno schieramento diretto di milioni di uomini la cui volontà è quella dei loro capi. Possiamo dire che esse, per il fatto che avvennero, furono necessarie, eventi improcrastinabili le cui cause, come accennato, scaturirono dalla perduta Atlantide. La prova alla quale l'umanità doveva essere sottoposta in quei tempi remoti consisteva nel vedere se, dati lo sviluppo mentale e la conoscenza acquisiti, essa avrebbe consacrato a questa conoscenza e il conseguimento scientifico a scopi materiali o a incentivi e impulsi spirituali. Questo antico conflitto nel XX secolo si trasferì in un altro campo ad espressione umana, quello della mente, diventando più acuto e chiaro e lo schieramento divenne così definito che i conflitti mondiali furono inevitabili. Perciò non dobbiamo meravigliarci se, per esempio, studiando il nazismo tedesco, lo troviamo così profondamente imbevuto di elementi esoterici e non aveva torto lo studioso di occultismo Miguel Serrano ad affermare che Adolf Hitler era l'ultimo avatar nella battaglia del Kali-Yuga. Quello che può lasciarci interdetti, invece, è scoprire lungo la nostra indagine che la gerarchia sostenne in tempi diversi entrambi gli schieramenti del conflitto, dai capi che instaurarono le dittature dell'asse alle forze alleate che portarono alla liberazione. Il tibetano scrive che a quell'epoca venne intenzionalmente rilasciato l'afflusso diretto della forza di Shambhala nel mondo, con l'obiettivo di stimolare il libero arbitrio delle masse e che produsse le grandi ideologie mondiali, fascismo, democrazia e comunismo, come pure la mescolanza particolarmente deformata di fascismo e comunismo che porta il nome di nazismo. Tutte queste ideologie sono promosse dal desiderio delle masse di migliorare le condizioni di vita del volgo di tutti i paesi, che si è focalizzato, espresso ed è diventato creativo grazie alla forza dell'influenza di Shambhala. La prima grande espressione o dimostrazione dello spirito di fusione ebbe luogo nei secoli XVIII e XIX e condusse alla formazione di paesi come l'Italia e la Germania, che furono creati da tanti piccoli stati, ducati e regni. Una storia della tendenza alla fusione nel mondo moderno si dimostrerebbe uno studio assai illuminante. Si troverebbe che i primi deboli inizi si ebbero intorno al 1575 d.C. e ciò fu dovuto al fatto che il permesso per l'afflusso di questa forza fu concesso quando venne richiesto al convegno centennale della gerarchia tenuto nel 1425. Ora, questo fatto ci obbliga ad una riflessione sul bene e sul male che va oltre la fissità dei dogmi religiosi e per di più si offre come preziosa occasione per comprendere meglio il nostro presente. Nello sprofondamento di Atlantide perirono centinaia di migliaia di vittime. Il cataclisma, invocato ai superiori divini, permise di salvare una minoranza eticamente sana e di distruggere coloro che erano focalizzati ed orientati in modo errato e perciò dediti alla vita di aspirazione e percezione materiali. Il nucleo che fu salvato formò la base della nostra rassa radice attuale, l'Ariana. Forse ancora più numerose furono le vittime delle due grandi guerre mondiale e nella breve distanza di un secolo, per le medesime cause risolte, il conteggio dovrà includere l'avvento pandemico. L'umanità sarà così nuovamente selezionata per produrre il seme della sopraggiunta era dell'acquario, oppure forse vinceranno i signori della tenebra, le cui azioni e i loro ideali affermeranno ancora più le forze del materialismo. In entrambi i casi la disputa delle forze opposte avviene sulla pelle degli uomini, dei quali penso che appaia fuori luogo onorarli del libro arbitrio. Forse all'uomo comune di oggi spetta l'arduo compito di vincere l'equivoco e cessare di confondere la morte con il male, dato che la morte non è un male, ma una legge necessaria alla trasformazione evolutiva. Allo stesso modo, però, non possiamo neppure ritenerla un bene. Ed è basandomi su queste ultime considerazioni che vorrei esprimere le mie raccomandazioni a quanti, sul sentiero della ricerca di sé, viaggiano seguendo la bussola della bontà e della giustizia che qualche guru, santo, religioso, gli ha dato in dono. Lo stesso destino di questi pi uomini, seppure nella direzione contraria, avranno gli stregoni in erba, maneggiando la bussola che indica l'altro polo. Io credo che non sarà la strada duplice del bene e del male a condurli a casa. Un saluto e alla prossima. Grazie a tutti.